Nel pomeriggio di sabato 4 settembre, a 25 anni dalla morte del Vescovo Costanzo Micci, è stata celebrata una santa messa in suffragio, preseduta dall'Arcivescovo Giovanni Tonucci e concelebrata dal Vescovo Armando, oltre che da buona parte del clero diocesano. Monsignor Tonucci nella sua omelia ha invitato i presenti a non fermarsi a commemorare un defunto, ma a continuare l'opera intrapresa dal Vescovo Costanzo durante il suo ministero. È stato infatti proprio lui, Monsignor Micci, ad esprimere nel suo testamento spirituale questa esortazione dicendo, fin qui sono arrivato, speriamo che i figli vogliono continuare. In risposta Monsignor Tonucci, facendosi portavoce dell'intera chiesa fanese, ha risposto che è con vivo senso di gratitudine che ringraziamo il Vescovo Costanzo e gli diciamo che noi stiamo continuando quell'esempio che ci ha lasciato e che vivrà sempre con tutti noi.